Trovo davvero squallido che si arrivi a fare polemica anche sui danni provocati dal maltempo. L'assessore all'agricoltura Silvio Caracappa replica così oggi al nostro telegiornale alle dichiarazioni di qualche giorno fa del consigliere Paolo Mandracchia, il quale dopo che Caracappa ha accusato la regione di aver abbandonato il comune di Sciacca per ciò che concerne la viabilità rurale, ha sostenuto che il vice sindaco non può addossare le colpe solo sul governo regionale. Sono delle affermazioni facili peraltro da dire, accusare ormai l'amministrazione la si accusa per tutto, quindi ci può stare anche lì. L'amministrazione comunale per i due nubi fragili, perché io ricordo che abbiamo avuto il primo e il secondo, in pochissimi giorni io ritengo che più di quello che ha fatto non poteva fare. Io giorni fa ho manifestato, appunto ho rappresentato quello che noi abbiamo fatto, le urgenze che abbiamo attuato, i provvedimenti d'urgenza, gli interventi strategici su alcune vie cittadine che erano bloccate e dove nessuno interveniva. E quindi ho detto che l'amministrazione comunale in brevissimo tempo ha fatto il possibile per cercare di garantire intanto il normale transito nelle vie cittadine, ha fatto di tutto per recuperare i danni avvenuti nel centro storico e soprattutto si è anche interessata, incaricando varie ditte, per cercare comunque di dare dei segnali nelle vie periferiche, nelle zone dove molte zone obiettivamente hanno avuto enormi difficoltà e a tratti non si poteva nemmeno raggiungere i fondi interessati. Per Mandracchia anche il comune di Sciacca ha le sue responsabilità in ordine ad alcune situazioni che si sono verificate sul territorio comunale a seguito dei nubi fragili, come per esempio le condizioni di contrada a Raganella. Questa la replica di Caracappa. Non è così perché intanto la pioggia che è venuta giù è una pioggia davvero intensa a cui noi non eravamo per niente abituati quindi il territorio non era pronto a ricevere questa forte intensità di pioggia. Punto numero due, sappiamo benissimo che in queste zone si sono registrati dei danni infrastrutturali ingenti dove il comune obiettivamente ha notevoli difficoltà di intervenire. Allora cosa abbiamo fatto? Incaricando gli uffici di protezione civile, gli uffici tecnici, noi nei giorni, proprio nelle ore successive al nubifraggio abbiamo effettuato un'attenta ricognizione e lì io voglio ancora una volta ringraziare gli uomini della protezione civile perché sono stati solerti e molto attenti a tutto quello che è avvenuto. In circa 24 ore noi abbiamo fatto una relazione molto dettagliata, trasmessa peraltro alla Regione e alla protezione civile dove abbiamo rappresentato quello che era lo stato dell'arte in città. Dopodiché se noi abbiamo 20-30 milioni di euro di danni, io mi chiedo e chiedo al consigliere Maniandracca cosa doveva fare questa amministrazione rispetto a tutta una serie di danni così grandi e così ingenti. Allora, cosa diversa invece, bisognerebbe sollecitare le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali perché noi più che mai in questa fase abbiamo davvero bisogno di aiuto e di finanziamenti. Allora, io dico, smettiamola ancora una volta di trovare per forza la critica che in questa fase non ci sta. Non capisco a quali parlamentari a me vicini faccia riferimento Mandracchia. Io ho sempre criticato il governo regionale tutte le volte che ha sbagliato con la città di Sciacca, conclude il vice sindaco, che dal consigliere Di Selle è stato accusato di prendersela con il governo regionale solo quando gli conviene. Io personalmente ad oggi ritengo di essere assolutamente contrario a quello che è l'andamento del governo regionale. Anzi, chi mi conosce più volte sa di determinate uscite fatte proprio contro il governo Crocetta, ma non perché io sono contro Crocetta, ma perché ritengo che l'attenzione che merita Sciacca da parte di questo governo regionale non c'è stata. E non voglio fare politica, ma sono tantissime le vicende che interessano la nostra città. Le terme prima di tutte, noi siamo stati letteralmente abbandonati e io, dico più volte, ho manifestato questa delusione rispetto ad un governo totalmente assente nei confronti di Sciacca. Quindi vorrei capire chi sono questi amici miei.